Amici di Pistoia Sport siamo a Montagnana nel post gara di Hockey Club Pistoia Cagliari finita 1-1 col pareggio finale di Vittori che ha rimesso le osse in parità siamo qui con Filippo Treno, squalifiato che però ha visto la partita fuori dal recinto di gioco a cui chiediamo le sue impressioni sulla partita Sicuramente dover stare a osservare una partita senza dover poter comunicare con la squadra è una sofferenza infinita e questo mi mette in una condizione chiaramente di limiti importanti però per fortuna noi avevamo costruito durante la settimana questa partita con un aspetto difensivo perché il nostro obiettivo era di portare a casa un pareggio perché non potevamo fare di più questo è avvenuto nell'ultimo minuto, l'ultima azione grazie a Federico Vittori e quindi siamo molto contenti per questo per onestà devo dire che il Cagliari comunque ha giocato un'ottima partita è riuscito a inibire i nostri controattacchi Federico Vittori e Gianni Bozio oggi praticamente sono stati quasi inesistenti grazie al gioco del Cagliari però poi alla fine l'episodio finale del corto ha messo le cose in parità e onestamente con una stagione tutta controversa è un punto che mi porta a casa molto volentieri Prossimi impegni a Roma, prima con la Lazio poi con Lucky Club Roma a cosa punterete? A noi purtroppo non possiamo fare progetti a lungo termine oggi portiamo a casa un pareggio e valuteremo di andare a Roma con la speranza minima di non perdere queste sono le nostre aspettative punticino dopo punticino speriamo di riuscire a mettere in cascina i punti sufficienti per mantenere almeno questa categoria Comunque sia, terzo risultato utile di fila, non è un caso No, ma se vi ricordate a inizio campionato parlai che qualunque cosa poteva succedere solo in corso d'opera per la situazione in cui siamo e comunque piccoli passi alla volta questo sta accadendo Perfetto, la ringrazio mister, ci risentiamo per le prossime trasferte e poi verremo a guardare la prossima partita in casa che sarà compisa fra tre settimane Grazie a tutti, ciao Arrivederci, grazie mille mister